Baumaus è un progetto collaborativo, nato dall'esperienza di una rete di realtà ed associazioni che operano nel campo della produzione e della distribuzione audio-video indipendente, dell'educazione non formale e della cultura underground. Baumaus crede che un approccio open alla cultura permetta di immaginare percorsi innovativi di formazione delle nuove generazioni, favorendo l'inclusione e l'ibridazione sociale e limitando fenomeni come la dispersione scolastica. I ragazzi e le ragazze che parteciperanno ai percorsi formativi di Baumaus avranno accesso diretto a un network culturale, riconosciuto a livello locale e nazionale. Potranno così attivarsi fin da subito nella produzione di documentari, film e progetti musicali indipendenti, nell'organizzazione di eventi, festival e rassegne culturali. Per quanto riguarda la diffusione di nuove opere, la piattaforma distribuzioni dal basso propone un concreto modello di sostenibilità che avvalora il lavoro di autori emergenti, costruendo reti di distribuzione a livello europeo. Cultura open significa nuove connessioni virtuali e al tempo stesso radicamento territoriale, grazie al rutilizzo virtuoso di opere già esistenti, ma anche grazie alla condivisione e alla trasmissione delle competenze. Baumaus è stato selezionato per la seconda fase del bando che fare tre. Puoi sostenere il nostro progetto in tre semplici passi.